Prima ha travolto i segnali stradali appena posizionati, poi è piombato contro il furgone fermo al lato della carreggiata. In strada all'ultima tragedia sul lavoro, vittima un operaio di Veneto Strade di 48 anni di casoni di Mussolente alle porte di Bassano del Grappa, Alessandro Farronato. L'incidente poco dopo le 14 lungo la circonvallazione esterna di Castelfranco Veneto. Miracolato ma sotto sciocchi il collega che era con lui e che stava di fatto compiendo le stesse azioni della vittima. Farronato è rimasto schiacciato tra il suo furgone tamponato dal tir e il guardrail. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo e consegnarlo alle cure dei paramedici del suo M118, ma il 48enne era già senza vita. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti che dovranno ora cercare di dare una spiegazione alla manovra del camionista che non si è accorto in tempo del cantiere che i due operai stavano allestendo per eseguire alcuni lavori di manutenzione ignorando i segnali, addirittura travolgendoli e terminando la sua corsa contro il furgone. Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori. Il 48enne è morto praticamente sul colpo, lascia la moglie e una figlia in tenera età e i fratelli che gestiscono un bar proprio a Mussolente. Sul luogo dell'incidente nel pomeriggio anche il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, che ha voluto rendersi conto di persona dell'accaduto.